E' in una discarica come questa, cercando tra i rifiuti il pezzo giusto, che vengono pazientemente realizzati dai bambini e dai ragazzi africani, giochi che brillano per creatività e molto spesso anche per fattura, come questi modellini di latta che diventano tricicli, automobili, perfino animali. In questa mostra trovate tanti tesori. I tesori vengono da vari stati africani e sono giocattoli costruiti da bambini e ragazzi africani recuperando materiale di scarto. Nella sala sono esposti tanti altri oggetti, giochi nati dalla fantasia dei bambini, esposti nella mostra I tesori nella discarica, allestita al Museo Africano di Verona. La mostra ha riscosso un grande successo di pubblico, soprattutto con le scuole e per questo è stata prorogata fino a dicembre. I materiali che vengono utilizzati sono legno, fil di ferro, fil di ferro anche scartato, pezzi trovati per terra, pezzi di plastica. Si possono trovare anche dei giochi fatti in lamiera, in latta, quindi ricavati anche pericolosamente tagliando delle bombolette spray o altro. Si possono trovare anche giochi fatti in fibre vegetali, come le foglie di banano o anche le bambole con pezzi di scarti di stoffe. Gli oggetti provengono da vari paesi africani, come questa autobotte costruita con legno e foglie di banano, oggetto di vero artigianato, o queste auto fatte di fil di ferro sapientemente lavorato. Una delle opportunità offerte dalla mostra sono i laboratori nei quali anche i bambini veronesi possono inventare dal materiale gettato via un giocattolo fatto tutto da loro. Noi però come Museo Africano abbiamo un'attività didattica preposta per le scuole, dove all'interno abbiamo un laboratorio dedicato al riciclo. Il laboratorio si chiama Giocati al riciclo ed è un laboratorio in cui i bambini delle elementari possono costruirsi dei giocattoli con materiale di scarto che poi possono portarsi a casa dopo l'attività fatta qui al museo.